Questo allarme che aveva lanciato il calcete lo possiamo considerare rientrato sulla chirurgia del seno? Sì, noi abbiamo avuto rassicurazioni con il collega Ceccarelli da parte della direzione già alcuni giorni fa quindi non siamo intervenuti sulla cherella, non piaceva neppure a noi il chirurgo in prestito era per dare, credo che nelle intenzioni della direzione generale, era per dare comunque una risposta alle tante donne che ci sono e a quello che ci ha detto fare anche formazione, però vogliamo evitare qualunque pericolo di fuga di questo servizio dall'ospedale San Donato quindi abbiamo chiesto ed ottenuto in tempi rapidissimi, ci è stato garantito che verrà fatto un concorso quindi le nostre donne potranno comunque continuare a curarsi l'ospedale di Arezzo. Sostanzialmente dopo il concorso ci sarà un nuovo primario, una persona di riferimento nuova? Sì, i concorsi sono pagine bianche che vanno scritte, speriamo che ci sia una persona di eccellenza soprattutto perché vogliamo tornare ad essere attrattivi come ospedale San Donato anche nel nostro territorio insomma è importante, purtroppo tante persone, tanti primari sono andati in pensione in un momento particolarmente difficile in un momento in cui la riforma iniziava a incardinarsi nella nuova organizzazione quindi queste che non sono poi state fuga, molte persone erano andate in pensione, tante eccellenze insomma comunque vedo che il dottor Durso si sta dando da fare nel bandire concorsi ora non ci sono sete vacanze se non queste, insomma da qui a qualche mese dovremmo stabilizzare ringiovanendo e ritrovando professionalità perché le persone che sono andate via erano davvero dei punti di riferimento per le loro specializzazioni quindi proviamo a ripartire con una forza nuova nell'ospedale San Donato felici anche che ci saranno dei grandi investimenti nei prossimi mesi anche nelle sale operatorie